ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua ancora una volta a vedere i vostri video i vostri orologi le vostre collezioni e come vi comportate perché io vi controllo vi controllo perché voi volete essere controllati voi mi mandate video e io vi dico cosa ne penso delle vostre collezioni o dei vostri orologi anche semplicemente della direzione che state prendendo che poi la decidete voi a me non mi tange non me ne frega proprio niente però siccome li mandate mi chiedete allora io vi dico cosa ne penso ma vale zero quello che ne penso io vale zero va bene dai oggi non voglio fare troppi discorsi vabbè come partecipare lo sapete qua vedete che c'è simpaticissimo indirizzo email al quale mandare il link prima lo caricate su we transfer.com il video e poi mandate il link per scaricarlo così lo scarico in definizione decente perché ultimamente ne ho scartati alcuni nei quali ce n'era uno che era registrato in verticale ma non in verticale come in verticale proprio ruotato qui per cui andava guardato così e non si capiva niente cioè era tutto sfocato veramente di bassissima e l'ho scartato non è che posso farlo vedere un altro che era anche registrato bene ma c'erano gli orologi in sottofondo no e ogni volta che lui prendeva l'orologio lo metteva davanti alla camera per farcelo vedere rimanevano a fuoco quelli dietro e quello primo piano era completamente fuori fuoco non si capiva cos'era e io devo eliminare un video del genere non posso poi mi dite ma perché il mio non è ancora pubblicato ma perché ma perché un altro registra il video ogni orologio che prende tira fuori e me lo mette fuori camera si vede solo il bracciale sotto cazzo ma non riguardate il video quando li fate riguardate e dite no non va bene l'orologio tutto fuori non si vede scartato anche quello lì quindi non è il contenuto a volte che viene scartato ma è proprio la forma la forma non posso far vedere agli amici che stanno guardando dei video fatti male malissimo a volte lo faccio ma c'è un limite no va bene l'orologio del giorno oggi è questo stupendo rolex digest 41 mm un orologio che ha il suo perché nel bracciale giubilì e nel fatto che sia acciaio e oro con questa bella corona zigrinata che luccica sbriluccica ci piace tanto a me mi piace tanto è un orologio che ha il suo perché dai guardiamo anche il primo video che sennò qua viene tardi eh ragazzi su ciao davide ciao da provincia di torino torino la premetto che questo video sarà girato in due momenti differenti poi scoprirai perché questa sera nella prima parte appunto andrò semplicemente a farti vedere i miei orologi diciamo la mia raccolta giornata alla data odierna siamo inizio giugno giugno mi posso che anfibia indistruttibile l'ho reso diciamo così satinato mi sono armato di spugnetta abrasiva un po di pazienza era tutto cromato e non mi piaceva per niente quindi l'ho modificato un po come la ghiera stesso colore del quadrante sempre da merano in stile ma io ci vedo una punta di ruggine sulla corona una punta ormai sono rimasto fissato dalla ruggine sulla corona dei vostri ma forse sì forse no non lo so è sempre russo però secondo me un po più attuale va bene dai un posto siamo al secondo ma è un orologio che mi ha regolato la mia ragazza e mi tocca a keyfield mechanical marroncino bello bellino molto bello mi diverto ogni tanto a cambiare i cinturini ora il turno di questo qua in stile racing buono passiamo al terzo cos'è questo è un glissing airman numero uno ancora sei millimetri purist mi è piaciuto subito perché primo gmt della storia diciamo questa è una riedizione edizione limitata questo è il numero 203 su mille e niente di contenute si adatta mio po io un posto da 18 però prediligo comunque diametri abbastanza contenuti va bene dai simpatico tutto bianco siamo all'ultimo tanti numeri lo conosci molto bene come un po tutti d'altronde maurice lacroix icon questa colorazione diciamo rosa salmone champagne che dir si voglia mi è piaciuto subito da quando l'hai presentato da quando è uscito comunque tutti un po gli influencer diciamo così il mondo degli orologi ne hanno parlato e niente è stato subito un colpo di fulmine per un successo lavorativo me lo sono regalato lo chiede in questa colorazione che non si vede spesso è bello eccoci qua taglionetto e si riprende siamo a metà settembre a settembre ho dimenticato di mostrarti il fantastico casio f91 pezzo rarissimo tutti possono averlo ma certo che ti stai strappando i capelli però comunque parte gli scherzi prima della registrazione del primo video ho riflettuto sono arrivato a una conclusione in pratica è semplicemente una questione di priorità nelle passioni banale esempio preferisco spendere 8.000 euro in un bel gran bel viaggio in magari diversi paesi con diverse esperienze escursioni viaggiare nel vero senso della parola piuttosto che non so comprare un rolex uno zenith chiedersi voglia ma questo ti fa onore per l'amor del cielo ognuno ha le proprie priorità c'è chi piace più una macchina una casa spenderli nella casa spenderli in viaggi spenderli sulla tangenziale cosa ne so ognuno ha le sue esigenze poi essendo abbastanza giovane ci chiedo che ti piace viaggiare che vuoi andare brigare fare conoscere ed è giusto che tu li spenda così l'orologeria è una passione che non ti deve togliere altro non ti deve togliere il mangiare dal piatto come si suol dire quindi hai fatto bene è una tua scelta e oltre a questo un altro punto a sfavore dell'ampliamento appunto della collezione è stato abbiamo tutti un solo polso quindi mi è capitato varie volte di uscire e dire cavolo però in questo contesto sarebbe stato anche più adatto quell'orologio che ho lasciato a casa sì va bene ma qui allora è colpa tua cioè non è che non è colpa degli orologi o della passione per gli orologi o del collezionare gli orologi se te esci di casa e dici era meglio se mi fossi messo quell'altro e allora è colpa tua cioè che sei indeciso che non sai decidere e che sei titubante non diamo a colpa gli orologi poverini in questo caso consapevole consapevole poi del fatto che se avessi messo l'altro orologio avrei pensato però in questo contesto ci sarebbe stato meglio l'altro ancora e allora è colpa tua per cui queste pippe mentali mi hanno portato alla conclusione di praticamente vendere tutto tutto il pacchetto tutto ha venduto tutto pippe mentali se le fissi fare e vende tutto ha venduto tutto il pacchetto è arrivare ad avere praticamente la collezione di tre orologi la famosa 3 watch collection e te li mostro allora sono rimasti un diver il solito vostro che finché dura te lo terrò dopodiché prenderò non so penso un seiko piuttosto che un oris mi fa veramente impazzire il cotton candy il nuovo cotton candy color verde penso bellissimi un orologio elegante di forma per cui bellissimo cartier tank piccolino sargento dimensione large addirittura questo ho trovato con con tutto scatto da documenti del 92 che mi hanno di età quindi l'ho fatto subito mio e poi come orologio da tutti i giorni abbiamo il top cartier top questo bellissimo long jean spirit 37 mm preso appunto il giorno questo ho preso il giorno del mio compleanno proprio ho detto all'amico giacomo di inserire nella garanzia il primo settembre ed è stato così gentile da accontentarmi bravo perciò manterrò questi questi tre diciamo tre più uno perché alla fine il casio è il re della collezione diciamo un orologio da lavoro da usare in situazioni più pericolose diciamo pericolose l'integrità cosa faccio pericoloso questa è la mia scelta questa è la mia collezione aggiornata tra l'altro ho dovuto aggiungere qualche centinaio di euro dalla vendita dell'eurologio che avevo prima quindi non c'è neanche non c'è neanche rimesso molto ma adesso per il momento mi sento mi sento felice così mi sento realizzato poi in futuro vedremo va bene niente ti saluto ti mando un abbraccio e un saluto a tutti gli amici del canale un salutone a tutti gli amici del canale per concludere magari ti stavi chiedendo se la mia ragazza è stata contenta che io abbia venduto l'emilton che era praticamente il suo regalo di compleanno inizialmente no però un mesetto fa le ho chiesto di sposarmi quindi tutto è bene perché finisce bene tra l'altro indosserò il cartier al matrimonio bravo niente tutto qui saluto ancora saluto ancora un matrimonio riparatore praticamente ti stai sposando per compensare il fatto che gli hai venduto l'orologio che ti ha regalato cioè sarà un matrimonio sicuramente felice di quelli che dureranno tutta la vita gli hai venduto l'orologio lei si è incazzata e ti ha detto allora ti sposo tutto pari a patta e andiamo avanti così bravi poi per il resto te ti senti soddisfatto così sono contento per te ma secondo me non duri poco con questi tre orologi qua no boh forse 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 stavi meglio prima cioè c'avevi più orologi più varietà di orologi da poter indossare da poter poi se non sei in grado di scegliere lì è colpa tua non è che è colpa loro ma ora ora c'è lo spirit che è veramente l'orologio everyday watch quello che ci puoi fare tutto perché c'è 200 metri quanto c'è 200 metri 100 200 coronavite luminescenza che spacca il mondo per legibilità robusto quindi potrebbe essere anche l'unico orologio quello non c'è poco da dire il cartier tank elegantino per le occasioni più anche se è del 92 e io ci starei un pochino attento perché incomincia avere i suoi bei 30 e passa anni e poi c'è l'anfibia lì il vostro che è un orologio va bene economico ci vai al mare ci fai quello che vuoi e lo vuoi sostituire va bene però secondo me la tua collezione crescerà di nuovo oltre i 3 4 vedrai vedrai che piano piano accumulerai di nuovo è una malattia è una malattia chiaro che se poi preferisci spendere in viaggi fai bene fai come meglio credite prossimo ciao davide sono marciato santo antioco e volevo mostrarti la collezione di orologi miei e della mia ragazza sardegna parto subito con i suoi da una possibile cioffecca festina al quarzo totalmente in titanio avion 34 millimetri carica manuale degli anni 70 ho fatto sostituire il vetro plexi cambiare il cinturino e revisionare il meccanismo carino carino questo ora iniziamo con i miei orologi citizen ecco drive al titanio questo mi è stato regalato come bomboniera al battesimo di mia nipote infatti all'interno della clasp c'è incisa la data ganzo ben ricordo sempre in casa citizen pro master sempre un eco drive ho sostituito il suo cinturino con questo waffle mi è stato regalato dalla mia ragazza e devo dire che della serie pro master per una questione puramente estetica preferisco gli eco drive perché la corona a ore 4 mi piace di più rispetto alla corona a ore 8 poi rimaniamo in giappone con questo secco cronograph sport 150 questo è stato regalato a mio padre da mia madre negli anni 90 mio padre non lo usa più e me l'ha gentilmente regalato tutti i regali ho comprato questo cinturino originale secco anche se non è coevo in quanto il cinturino dovrebbe essere anni 70 anni 80 come vedi non si abbina particolarmente bene nelle anse ci sono questi crateri il cinturino è anche lasco però mi piace un sacco diciamo che tutti questi problemi al polso svaniscono perché non so se si nota in video ma a livello cromatico il colore dell'acciaio della casa col bracciale anche del loro sono praticamente della stessa tonalità dovrò farlo revisionare perché come si può notare i tastini sono inchiodati gli indici l'indice qua sopra i certi pin hanno perso il loro colore un orologio alla quale io sono particolarmente legato che il prima possibile farò revisionare bravo bravissimo poi rail ok è mio un orologio che tu stesso hai presentato più volte quindi chi ti segue da tempo avrà riconosciuto l'ho sempre desiderato sono contento di averlo potuto acquistare e ora che è nella mia collezione me lo godo è mio era il mio top poi passiamo al mio dress watch anche se come insegni tu non è perfetto margi 33 mm spessore da 9 in oro cassa totalmente in oro megoglioni calibro etta 26,77 pensate ho messo questo bracciale in coccodrillo cinturino la fibbia è la sua originale e questo è un orologio che uso esclusivamente con un abito o con una camicia è perfetto cinturino bello poi passiamo al mio ultimo orologio preso grazie a un tuo video, a una tua recensione tagoyer Carrera 39.000 calibro sellita però devo dire che nonostante il calibro non sia suo e fa storcere il naso a più appassionati a meno per il prezzo che costa molti dicono che non avendo un calibro in house costa troppo a me onestamente questo non interessa perché la lavorazione dell'acciaio e la qualità costruttiva in generale è di altissima qualità ragazzi è sempre il solito discorso io sono il primo a dimostrarlo ho preso il Breitling Cronoma GMT con Letta 2893 costa uno stonfo di soldi e questo qua è uguale c'è un calibro di fornitura un sellita se non sbaglio e costa uno stonfo di soldi gli orologi non sono solo il calibro è l'orologio in se stesso e tutto quello che c'è dietro anche il marchio tagoyer conta Breitling conta volente o non volente è così cioè se no altrimenti una Mercedes non costerebbe più di una Skoda le robe più o meno sono quelle è il marchio è il marchio questo qua è bello è il vero orologio da ricchi questo qua uno spende 5.000 non so quanto costa non mi ricordo 5.000 euro per un orologio che non li vale è il lusso è il lusso questo qua spendere dei soldi nelle cose inutili è il lusso quindi me lo godo lo uso tutti i giorni e trovo che sia un orologio bellissimo avendo anche un lag to lag contenuto sta bene penso a un range di polsi veramente elevato sta bene sia a uno che ha un polso da 16 mm che a uno che ha un polso da 22 va bene a breve vorrò acquistare un cinturino in pelle blu devo solo capire che cinturino abbinare io stavo pensando a un John Coolstrap in pelle scamosciata blu con le impunture sul grigio fumo squalo in squalo fammi sapere cosa ne pensi di questa scelta spero che la mia collezione è anche quella della mia ragazza ti sia piaciuta un abbraccio ciao 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 si gli orologi tutti tutti super belli cioè parla l'amore del cielo anche i vintagini poi sai tanti sono regalati ti sei preso i regalini quindi niente l'eco drive si ce l'ho anche io l'eco drive niente di che Carrera qua in fondo la bomba ora ti dicevi il cinturino da John Coolstrap a me mi è venuto a mente il flash il cinturino di squalo guarda sul mio instagram oppure il video che ho fatto in certi miei video io l'ho messo sul big crown sul pointer dating bronzo un cinturino in squalo blu che è veramente la fine del mondo ma ha cambiato l'orologio da così a così secondo me anche qua ci sta bene in squalo blu che poi uno dice squalo pensa che sia una pelle ruvida è morbidissima si vede che è trattata non so come non chiedetemi come è morbidissima quasi velluto sembra c'ha un colore opaco poi le punture io ci ho fatto quelle zig zag coloro bronzo per riprendere il bronzo te ci puoi fare anche quelle dritte che riprendono il bianco degli accenti secondo me in squalo ci starebbe bene comunque la collezione di orologi è top quindi c'è poco da dire sei promosso dai ciao Davide mi chiamo Piero innanzitutto ti faccio i complimenti per il canale e per il tuo format passo subito a mostrarti la mia modesta raccolta di orologi partiamo con i quarzoni e ti mostro solamente quelli diciamo degni di menzione il crono della serie Manta seconda metà degli anni 90 ce l'ho dall'epoca mi piace molto il quadrante quindi ogni tanto lo indosso i segni del tempo si vedono tutti però è veramente carino anche compatto credo sia un 38 38 e mezzo qualcosa del genere simpatico al volo questo Timex con l'indigno ce l'ho anch'io uguale identico simpatico lasciamo perdere il Braille Tribe che tra l'altro mi hanno regalato passo a mostrare questo Casio Edifisso Edifice non ho mai capito come si pronuncia con questa cassa in stile Oak e questo quadrante davvero davvero carino con questa finitura diciamo graffiata satinata verticale questi indici applicati che ricordano quasi il Camasu vetro zaffero 100 metri sottile leggero io adoro questo orologino poco più di 100 euro quello Casio Edofaisley è uno di quelli che consiglio anch'io quando uno vuole un orologio al quarto da tutti i giorni quello lì è uno di quelli io da tutti i giorni ho il Timex quello che hai fatto vedere prima e c'è anche un altro Expedition al quarzo uguale in resina se qualcuno vuole invece qualcosa di più elegantino al quarzo quel Casio Edofaisley è veramente il non plus ultra è bello esteticamente richiama qualcosa qua e là ma non assomiglia a niente è un quarzon quindi occhio la batteria che poi ti frega però è un bello orologico Timex Q questo è praticamente quello della riedizione del modello del 79 però io ho preso questo con la lunetta nera cinturino in un simicone perché mi piaceva di più brevissimo questo Bulova per il quale segnalo semplicemente che oltre ad essere un quarzo molto molto preciso è uno dei pochi quarzi con la sfera chiedo scusa dei secondi perfettamente allineata al quadrante complimenti Bulova qui passiamo un micro brand che apprezzo molto Dan Henry questo è il modello 1964 cassa e dial veramente fatto bene finiture veramente veramente di livello esce con questo bracciale a chicchi di riso monta il Seiko Mecaquartz VK63 che però scappa un po' nell'arco di un mese acquista diversi secondi e il fondello viene nel fondello che a vite viene rappresentata questa Aston Martin DB5 esce pure con un cinturino in pelle che però ho sostituito con quest'altro che ho preso su Amazon che è un po' più cicciottino diciamo quello suo era troppo sottile molto carino dicevamo della sfera dei secondi non perfettamente allineata TSO PRX ecco potete già vedere che non è perfettamente allineata però vabbè succede che dire di questo orologio niente perché è stato già detto tutto succede che nei quarti la sfera dei secondi non va a toccare l'indice precisamente però se ci ragioniamo un attimino a logica razionalmente mi dividi il quadrante in 60 segmenti la lancetta fa 60 scatti e minchia e fa merito di precisi sarebbe il minimo invece no Goyer Professional diver dei primissimi anni 2000 questo è stato un regalo corona vite molto molto sottile molto carino ogni tanto lo indosso finali vuoti purtroppo che poi col tempo quando i cacci cominciano a deformarsi però orologino molto carino passiamo ai meccanici come non citare il vostro comandischi con questo cinturino con le impunture rosse che ci ho messo e la morte sua sua Vagari G-Matic che hai recensito anche tu carino questo è il modello blu che ha questa questo dial sabbiato veramente molto molto rogoso complimenti anche alla Vagari quindi a Citizen per il bracciale perché questo è comunque un orologio entry level e il bracciale è entry level però hanno avuto la bontà di ripiegare le maglie qui nei giunti e quindi tu non lo vedi sui lati lo vedi liscio e quindi sembra anche di fascia superiore messaggio per Seiko i tuoi Seiko 5 falli così abbiamo detto Seiko 5 ecco un grande classico military che d'inverno d'inverno ci monto questo cinturino questo cinturino marrone oppure questo bracciale che ho trovato su ebay che insomma dovrebbe assomigliare a quello diciamo dei 6.5 di questa categoria molto carino molto versatile chiedo scusa adesso ti mostro questo per il quale partirà sicuramente il Ciofec Allert però io te lo mostro lo stesso volevo un diver diciamo senza senza troppe pretese o meglio da battaglia e questo Addis Dive per la cifra che costa poco più di 150 euro un orologio diciamo fatto bene un quadrante molto carino con questa finitura sabbiata non mi ricordo come si dice in gergo Seiko chiedo scusa Seiko NH35 vetro zaffero 200 metri corona vite fondello a vite che riprendi il logo di Addis Dive è uno dei pochi che probabilmente non copia non omaggio a nessuno io per quella cifra l'ho voluto prendere rimanendo sempre in tema di ottimo rapporto qualità prezzo Orient Maestro un orologio davvero molto 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 bello peccato solo per il suo spessore forse un pochettino troppo accentuato però è davvero un bellissimo orologio ci ho messo pure questo cinturino in simil coccodrillo verde per riprendere il verde del quadrante anche se sembrano avere tonalità diverse ma con molta luce con queste riprese sembrano starci bene ma vi assicuro che di sera fa la sua pochissima figura boccia chi esce con questo bracciale in maglia milan anzi quello Seiko 5 l'hai recensito anche tu però quello nero col bracciale ho preso questo con il quadrante blu gli indici dorati i numeri dorati mi è piaciuto molto cinturino in pelle in punture bianche molto molto carino Seiko 5 Sport questo è quello col quadrante grigio mi è piaciuto molto 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 fine bello orologio mi piace molto quest'altro che dire Orient Kamasu già visto e rivisto in tutte le salse questo quadrante però è ipnotico veramente mi sono innamorato dalla prima volta che l'ho visto mi piace veramente bello bello altro Seiko il Presage di cui dial secondo me è veramente bello 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 con 3B molto molto bello peccato solo che Seiko lo dicevamo prima i bracciali sì bracciale decente maglie piene finali vuoti un orologio da 400 e passa euro e vabbè in ultimo chiudo con questo lascito uno Zenith Captain se ho fatto bene le mie ricerche però cassa da 30 quindi non lo so se era un modello da donno in quegli anni fini anni 70 si usavano anche usavano anche gli uomini purtroppo ha il vetro lesionato anche il quadrante è un po' si è un po' danneggiato ma forse questo era stato già ristampato dovrebbe essere tutto completamente in oro perché tra l'altro c'ha anche la scritta 750 qui adesso si vede capovolta e non so ancora se farlo aggiustare o se farlo per mutare per comprarmi un orologio diciamo che mi piace di più perché comunque il 30 al polso me lo vedo proprio insomma bruttino niente questa è la mia simpatica raccolta di orologi se vorrei pubblicarla te ne sarò grato ti ringrazio rock and love rock and love ma niente allora ciò che mi colpisce della tua collezione è che sono una ventina di orologi ok una ventina di orologi i primi 10 sono tutti quarsi entry level va bene ci sta e la seconda metà sono tutti automatici meccanici entry level ora di tutti questi 20 orologi non è che si potrebbe ridurre la quantità e prenderne uno intorno ai 1000 che sia un pochino più soddisfacente cioè non voglio dire non voglio fare il solito discorso meglio 10 uno da 1000 che 10 da 100 ma nel tuo caso non vuol dire che li devi vendere tutti vuol dire che ne tieni qualcuno entry level e te ne prendi uno del livello superiore no perché se non puoi andare avanti così sembra comparare 6 co 5 orient orient kamasu bulova al quarzo eccetera eccetera perché se no ti fai una collezione di 50 orologi tutti da 200 euro l'uno e uno vale un po' l'altro no al di là dell'aspetto estetico uno si deve un po' buttare negli entry level 1 2 3 4 5 ce n'hai 5 ok poi vediamo di fare un saltino sopra non comprare un altro da 100 euro la disdive cosa ti serviva la disdive quella lì si è uno di quegli orologi che non copiano nessuno no ma perché loro assemblano cioè fai un quadrante così piglia queste lancette fai questo 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 lo mettiamo sul mercato ce lo fanno anche senza senza spirito di voler innovativo tutte cose già viste messe insieme volendo però sì quello lì non assomiglia a nessuno però è proprio il marchio che nasce per fare copie poi se me ne fai anche uno fatto fatto diverso si è sempre pagare i design capito è contrario di che ne so Hamilton che mi fa tutti i orologi originali poi se me ne fa uno che si ispira ad un altro non gli faccia una colpa dipende anche dalla percentuale comunque dai tu ti entri level boh contento te contenti tutti l'ultimo zen è tutto d'oro non si può vedere ma quelli sono altri problemi dai prossimo video ciao Davide ciao a tutti gli amici del canale ciao e sono Michele volevo presentarvi velocemente la mia piccola raccolta di orologi vai allora partirei con questo quarzone questo è digitale Casio che utilizzo in tutte le situazioni in cui non devo preoccuparmi insomma dell'orologio pericoloso è rovinato però insomma è il primo orologio che mi sono comprato quindi va bene lo tengo e mi piace Suyosa poi Citizen Suyosa giallo un orologio automatico con bracciale integrato da non spendere troppo e ho scelto lui è molto bello secondo me è ben fatto l'unico problema secondo me è la corona e risulta infatti secondo il mio punto di vista un po' difficile macchinoso regolare l'ora e la data con la corona ma è perché solitamente quando uno fa un orologio automatico qual è lo scopo no in teoria è quello che essendo automatico te non devi mai quasi mai utilizzare la corona per regolarlo per caricarlo non la devi utilizzare una volta che l'hai messo la prima volta poi lo utilizzi lo indossi lo posi lo rindossi e quello va avanti per sempre no tra virgolette quindi questo come certi secco 5 come certi altri orologi tendono soprattutto i giapponesi lo fanno ad avere una corona incassata nascosta perché non la si utilizza ok poi invece noi ce ne abbiamo 50 di orologi ogni mezz'ora ne cambi uno stai a regolarlo stai a regolarlo stai a regolarlo è logico che ti rendi conto di questi minus ci sta roncino qua perché esce veramente poco insomma però simpatico simpatico poi un orologio che utilizzo di più e che apprezzo di più come qualità prezzo adesso non so se si vede ma è pieno di segni veramente lo uso tanto è questo Hamilton khaki field con movimento h10 automatico gli ho messo cinturino nato fatto bene soprattutto per l'estate che è un po' più un po' più comodo che è appena finita insomma però lo tengo ancora visto che c'è ancora caldo sempre Hamilton e orologio che secondo me per il prezzo e la qualità offerta è davvero veramente è veramente un best buy yes della categoria questo è il mio punto di vista poi insomma ognuno ai suoi gusti ma sì non lo pensano tutti poi passerei a un pezzo un po' più importante che è questo Tudor black bay 58 orologio davvero ben fatto una qualità costruttiva davvero sicuramente ottima il rapporto qualità prezzo davvero altissimo le proporzioni di questo diver per il mio polso che non è un polso importante ma un polso da 16 e mezzo sono perfette e anche questa colorazione che ricorda il vintage insomma è un orologio che a me piace molto la prima volta che mi sono messo il polso ero andato a provare un altro orologio che era lo speedmaster e per curiosità ho voluto provarlo e alla fine ho preso lui bravo l'ultimo orologio l'ultimo orologio è questo Rolex dayjust 126 234 con quadrante verde menta è un orologio che io ho sempre desiderato e il dayjust lo reputo l'orologio e mi ero innamorato di questo quadrante verde bellino è fantastico bellino sì e l'ho aspettato parecchio poi sono riuscito ad averlo fortunatamente da concessionario ufficiale senza dover comprare altre cose diciamo oro gioielli me l'hanno dato molto gentilmente sono stati davvero gentili gentili sta cosa sta cosa che sono stati veramente molto gentili cioè ringraziare anche un negozio perché ti vende l'orologio al prezzo di listino senza essere obbligato a comprare altre cose intorno cioè se tenendo conto a che punti siamo arrivati molto gentili ringrazio il negoziante che me l'ha venduto cavolo ma gli hai messo lì davanti quei migliaia di euro gli hai messi lì cioè a volte ci lasciamo un po' trasportare dalla dalla situazione giubileghi e rauro bianco ecco secondo me questo è l'orologio perfetto dal mio punto di vista ovviamente l'utilizzo tantissimo perché sono uno che gli orologi li vuole utilizzare e mi piace tantissimo la colorazione del verde già detto che lo rende davvero particolare non so anche il tuo parere su questo quadrante che non si vede tantissimo in giro però secondo me è davvero bellissimo chiudo al parere sul quadrante te lo do subito non si vede tantissimo in giro infatti io non l'avevo mai notato nel senso l'avrò visto sì l'avrò visto però non l'avevo mai notato l'avevo sempre scartato perché boh non lo so forse fa un effetto differente qua vederlo così è un verde grigio che sicuramente è l'eleganza sua cioè quasi quasi nero è più bello il quadrante nero è più bello c'è poco da dire poi acciaio oro così che impreziosisce però quasi quasi mi piace anche molto anche questo è quasi quasi uno di qua uno di qua uno di là bello bello promosso facendoti complimenti per il canale grazie facendoti anche una domanda stavo valutando un diver un po' più tranquillo un po' più diciamo spensierato e ero deciso tra uno tra uno squale 1542 e uno yema e volevo sapere magari anche un tuo parere ecco ti ringrazio grazie a te love love ora un parere tra uno squale e uno yema come si fa a dire meglio uno e meglio l'altro sinceramente sono entrambe due case che mi piacciono veramente tanto che fanno orologiche quasi tutti mi piacciono tranne quando vanno ad ispirarsi troppo alle cose già viste succede con squal succede anche con yema certi colori certe cose un po' troppo gigioneggianti però in linea generale sono due case che mi piacciono un casino e gli orologi mi piacciono entrambi un casino quindi cosa ti posso dire cioè tecnicamente la differenza non c'è non c'è dai veramente cioè no allora chiedo l'aiuto da casa chiedo l'aiuto da casa voi che siete qua sotto squale 1521 o yema che poi non ha detto quale modello ma sicuramente sarà il superman quindi yema superman squale 1521 decidete voi qua sotto fate un commento con il like e il dislike chi vince lui si deve comprare per forza quello che decidete voi così impara così impara perché siamo in fingarti boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video del presentatore e quindi non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 Grazie a tutti.